Silvana Comaroli, su quali emendamenti la Lega Nord farà battaglia in commissione sulla legge di stabilità? Allora, premesso che tutti i nostri emendamenti sono importanti perché sono andati veramente a favore del nostro territorio. Solo per dirne alcuni e per far rendere conto della nostra battaglia, i principali sono rivedere ovviamente il patto di stabilità che effettivamente imprigiona i nostri comuni che non riescono più a fare quel servizio che invece devono fare i cittadini. Rivedere il taglio che ancora una volta questo governo ha fatto, rivedere il taglio alle regioni perché ancora una volta questo governo anziché andare a eliminare la spesa inefficiente ha fatto un taglio lineare di ben un miliardo a tutte le regioni. Questo è sul versante degli enti locali, quindi quelle istituzioni che sono vicine al cittadino, non come questo governo che invece proprio non conosce e non ha la minima percezione di quello che è la realtà locale. Altro fronte su cui noi faremo battaglia è far sì ovviamente di abbassare il più possibile l'Irappa o comunque permettere che sia detraibile dalle tasse. Anche su questo fronte è una sensibilità che noi abbiamo nei confronti delle nostre imprese perché ricordiamoci se le imprese hanno troppe tasse purtroppo sono costrette a chiudere e la conseguenza che cosa è? Che molti nostri cittadini perdono il lavoro. Questa qua è una nostra battaglia fondamentale su cui ci teniamo particolarmente. Altro versante su cui abbiamo sempre presentato emendamenti è sul fatto che molte giovani coppie che vogliono farsi una famiglia, quindi magari acquistare una casa, vanno in banca e molte volte si sentono dire no. Noi a questo punto abbiamo creato un fondo proprio per queste giovani coppie che vogliono finalmente farsi una vita. La situazione è un po' difficile perché la prima impressione, oggi abbiamo iniziato appunto in commissione l'analisi degli emendamenti, è che questo governo non riesca a capire quelli che sono effettivamente le esigenze dei cittadini e questo con grande rammarico ci dispiace. Noi in commissione faremo comunque una battaglia fino allo stremo ma sicuramente battaglieremo da grandi.